direi che la sussistenza è garantita anche stasera non c'era neanche una macchina sul percorso i percorsi erano tre, quattro chilometri sì, tre e otto, sette e due, otto e ottocento otto e otto? sì, otto e otto, per la precisione è una settimana di fuoco perché questo è il quarto appuntamento di seguito sì bene, complimenti, grazie Torrazzo, grazie Guido, grazie a tutti del Torrazzo grazie a Mac che è sempre disponibile col sito Modena Corre naturalmente l'abbiamo già prenotato per la nostra gara di settembre che sarà il trentennale, fra altre cose quindi trent'anni sono tanti ma anche questa non scherza perché è il venticinquesimo quindi sono venticinque anni della notturna del Torrazzo sì, venticinque anni di maccheroni guardate se mettessimo insieme tutte le vaschette di maccheroni mangiate in venticinque anni sarebbe peggio del concerto di Vasco quanti quintali, quanta pasta viene fatta? 110 chili cotti, cioè crudi, quindi alla fine vengono cotti 110 chili a ticigliani va via questa quantità, non c'è problema ciao Guido ciao Guido ciao 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 ciao